Improvvisamente un déjà vu, qualcosa di già visto, la pandemia che impazza e partite non giocate, anche se per ora a singhiozzo e a danno di determinate squadre come il Casarano, che per via dei due tesserati recentemente colpiti dal Covid-19, anche dopo domani dovrà essere spettatore di quelle poche partite che avranno la fortuna di svolgersi. Dopo quella con il Taranto, i rossazzurri dovranno recuperare anche i 90 minuti con il Nardò. Non è un buon segno perché i bravi fabbri insegnano che il ferro vada battuto caldo, caldissimo, per ottenere un buon prodotto. E la stessa cosa accade nel calcio. La vittoria di Gravina di Puglia di due settimane fa sembra lontana anni luce e l'abbrivio preso in vista del derby con il Taranto si è svuotato improvvisamente di contenuti. Il tecnico Vincenzo Feola perciò dovrà essere bravo a tenere alta la tensione, anzi ad appiccare il fuoco dell'orgoglio, della fierezza e della concentrazione da sprigionare subito nel derby dell'8 novembre con l'Altamura.